Buonasera, benvenuti alla rubrica verso Londra 2012. Oggi parleremo sempre degli edifici all'interno del Parco Olimpico e in particolare dell'arena Pallamano e del velodromo. È importante sottolineare che ogni edificio progettato ex novo per quest'area ha seguito dei criteri di funzionalità ma anche di adattabilità rispetto al momento dopo i giochi e sono stati considerati non solo i criteri per la progettazione accessibile e inclusiva ma anche un capitolo speciale è stato assegnato alla progettazione sostenibile. Fin da adesso è disponibile sul sito una copiosa documentazione. Parliamo adesso quindi particolare del velodromo. Nel velodromo vi si svolgeranno questi sporti il ciclismo su pista e il ciclismo su pista paralimpico. A livello inferiore che è in cemento ci sono 3500 posti che sono tutti collocati intorno alla pista. In aggiunta a questi 3500 ci sono 2500 posti che sono ricavati nei due livelli superiori all'interno delle due curve del tetto. Il velodromo è caratterizzato da un spettacolare tetto curvo al di sotto del quale corre questa parete vetrata che serve a dare la visibilità dall'esterno all'interno e viceversa dall'interno verso il parco. In questo stesso espediente dicevamo che serve a catturare la luce naturale e quindi riduce il consumo di energia elettrica. Riguardo invece alle soluzioni per l'edilizia sostenibile sono stati messi in atto due sistemi, quello dell'energia innovabile con delle soluzioni tipo pannelli fotovoltaici e un sistema per la raccolta dell'acqua piovana affinché sia riutilizzata. Passiamo a vedere invece quali sono le soluzioni come l'arena per la pallamano. Nell'arena pallamano si svolgeranno gli sport della pallamano, del goalball e del pentathlon moderno. Avrà una capacità di accogliere 7000 persone e anche questa come il velodromo è una struttura nuova in fase di costruzione e a carattere permanente per cui è stato definito l'uso che avrà durante i giochi ma anche successivamente. La struttura apparentemente è semplice perché ha un grande parallelepipedo però anche qui ci sono delle soluzioni abbastanza interessanti come per esempio il rivestimento esterno che è tutto il rame in gran parte riciclato per oltre 3000 metri quadrati. Questo rivestimento in rame serve a conferirgli un carattere particolare perché con l'invecchiamento del rame praticamente si svilupperà un colore naturale che via via col tempo darà sempre una caratteristica particolare a questo edificio. Per cui è anche interessante questo approccio all'edilizia che vede nell'edificio non solo un qualcosa di nuovo immediatamente utilizzabile ma c'è anche l'idea di come nelle generazioni successive come negli anni questo edificio si potrà invecchiare e quindi anche una valorizzazione del suo invecchiamento perché si potrebbero trovare degli effetti ancora più interessanti negli anni che nel momento in cui è stato realizzato. Anche qui c'è un atrio di ingresso perimetrale e questo discorso dell'accesso che può avvenire in più parti della struttura è sempre un altro elemento che fa capire come c'è l'apertura massima verso l'esterno. Quindi con l'imbrunire quando si accendono le luci artificiali da questo spazio perimetrale viene fuori questa immagine di illuminazione, questa fascia di luce per cui è anche un segnale visivo notturno. All'interno poi la struttura è stata ideata per essere più possibile flessibile, quindi a seconda delle attività si possono spostare le sedute che sono rimovibili, c'è tutto uno studio sui colori. Rispetto alla progettazione sostenibile sarà messo a punto un sistema per la raccolta dell'acqua piovana e per il suo riutilizzo, sono stati messi in atto altri sistemi attraverso i quali si prevede un risparmio del ben 40% dell'energia elettrica. Come sarà utilizzata l'arena Pallamano e anche questo edificio sarà adattato come centro sportivo multiattività per la comunità locale e regionale. Con questo oggi è tutto, grazie.